Dopo il turno infrasettimanale dedicato alle semifinali di Coppa Italia torna il campionato con la seconda giornata di ritorno. Unica squadra chiamata agli straordinari è l'Aurora Alto Casertano che giocherà in anticipo mentre Venafro, Gioiese e Guglionesi potranno beneficiare i 24 ore in più di riposo dopo l'impegno tricolore. Big match di giornata andrà in scena tra Castel di Sangro e Aurora Alto Casertano, rispettivamente terza e seconda forza del torneo. Entrambe le compagini hanno iniziato alla grande il 2024 con due vittorie importanti contro avversari ostici. I padroni di casa hanno cambiato tanto durante il mercato invernale. L'obiettivo è quello di macinare più punti possibili e tenere in vita il discorso play-off riducendo al minimo la forbice tra la seconda e la terza. Il Casertano dal canto suo ha ipotecato il primo obiettivo stagionale raggiungendo la finalissima di Coppa Italia. In campionato continua invece il testa a testa con l'Isernia, distante soltanto un punto. Anche la capolista Isernia scenderà in campo in anticipo contro il sesto campano, gara che si disputerà a porte chiuse e che la nostra emittente trasmetterà in diretta. Una gara complicata per i pentri. Il sesto campano è un avversario con tanta esperienza e da prendere con le pinze. Chiedere all'Aurora Alto Casertano per conferma, fermata sullo 0-0 nella penultima gara del 2023, consentendo il sorpasso proprio dell'Isernia. Sicuro assente del match tra le fide dell'Isernia lo squalificato Lopez che sconterà la seconda delle cinque giornate inflitte dal giudice sportivo. Da valutare invece le condizioni fisiche di Flores. Altro match interessante andrà in scena al passarelli di campo di pietra tra Ripa Limosani e Polisportiva Fortore. Gli uomini di Bentivoglio hanno disputato un grande match sul campo della vicecapolista ma non hanno raccolto punti. Il successo manca da tre turni e Giallo-Blu cercheranno di prendere l'intera posta in palio e scavalcare proprio gli avversari. Ottimo finora il percorso della neopromossa Fortore. 24 punti e settimo posto in classifica. Un rollino di marcia importante, diviso esattamente a metà avendo conquistato gli stessi punti sia tra le Muramiche che lontano da San Bartolomeo in Galdo. A chiudere il programma Cliternina-Olimpia-Agnonese. Per i padroni di casa il cambio di allenatore non ha portato punti ma la squadra è apparsa in ripresa nella prima uscita del 2024. Obbligatorio per Difortunato e compagni cercare il successo che manca ormai da bene dieci turni. È necessario inanellare una serie di risultati consecutivi per abbandonare l'ultima piazza. L'Olimpia attualmente fuori dalla zona calda vuole sfruttare l'occasione per allungare sulle rivali e navigare in acque più sicure. Tutte e quattro le gare si disputeranno alle ore 14.30.